I tre piedistalli Ho tre piedistalli nell'ordine A, B, C Sopra il piedistallo A ci sono cinque cubi numerati dall'uno, quello di sopra, al cinque, quello di sotto Quante mosse sono necessarie come minimo per spostare tutti i cinque cubi sopra C? Se ad ogni mosso si può spostare solo un cubo, sempre una posizione vicina Se mai da A, C o da C ad A e mai un cubo, può stare sopra uno con un numero minore del suo? Io mi costruisco una tabella a due colonne Sulla prima colonna scrivo il numero di cubi e sulla seconda il numero di mosse Allora, con cinque cubi mi sembra piuttosto difficile Allora inizio a farlo con un cubo Io da A, C con un cubo ci metterò due mosse Scriverò sulla mia tabella due Adesso proviamo con due cubi Io provo a fare così Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto Mi sembra una buona soluzione Però adesso provo a dimostrarlo L'unica mostra che posso fare in questo posto è questa Perché il due è bloccato Quindi l'unica cosa che posso fare è questo Adesso posso muovere sempre solo questo Però se tornassi indietro non avrebbe senso perché tornerei alla posizione di prima Quindi lo sposto ancora più avanti Adesso il due si è liberato E se dovessi muovere ancora il due Tornerei solo indietro alla posizione di prima Quindi perderai un giro, una mossa Quindi muovo il due Sul piedistallo B A questo punto posso fare due cose O mettere questo qua sopra O spostare questo indietro Però tornerai alla posizione di prima Che non mi converrebbe Quindi lo metto sopra Adesso l'unico che posso muovere è questo O verso la posizione C Ma tornerai al punto di prima O verso la posizione A Che mi sembra la soluzione migliore A questo punto posso mettere nella posizione finale Il cubo 2 E poi contare altre due mosse Per mettere il cubo 1 Bene Quindi posso andare a scrivere sulla mia tabella 8 Adesso provo con 3 cubi Allora Per liberare il terzo cubo Io devo aver spostato questi due Nella posizione C Quindi Devo contare 8 mosse E sposto direttamente questi cubi qui Quindi scrivo 8 Più Poi posso fare una mossa 1 Poi aggiungo altri 8 Per tornare ad A In modo da liberare il 3 Da mettere nella posizione finale Quindi più altri 8 E poi aggiungo 1 Per arrivare la posizione finale Più 1 E poi ancora 8 E ho finito Quindi 8 più 1 Più 8 Più 1 Più 8 O meglio 8 per 3 Più 2 8 per 3 Più 24 Più 2 26 Quindi con 3 cubi Io ho bisogno di fare Almeno 26 mosse Adesso Anche se ho quasi capito La soluzione Diciamo Del mio problema Provo a farlo anche con 4 cubi Per liberare il quarto cubo Io devo riuscire A spostare questi 3 Nella posizione C Come prima ho mostrato Con questi 3 cubi Per arrivare fino a qua Mi C Vogliono 26 mosse Quindi li sposto qua E conto 26 A questo punto Posso muovere questo E lo metto qui Sul piedistallo B Poi conto altre 26 mosse In modo da liberare questo Che adesso potrà andare qui Quindi 26 più 1 Più 26 più 1 Più altri 26 Per arrivare qui 26 per 3 più 2 26 per 3 fa 78 Più 2 fa 80 Bene Ormai la regola l'ho capita E quindi Non mi servirà ancora un cubo Per riuscire a fare Il mio calcolo con 5 cubi Però Perché posso fare subito il calcolo Mi dovrò fare 80 per 3 Più 2 80 per 3 fa 240 Più 2 242 Quindi la soluzione Del mio problema È 242 La regola Che ho trovato È che Quando devo trovare Le mosse che mi ci vorranno Con un certo numero di cubi Resterà calcolare Il numero di mosse Con il numero precedente Moltiplicarlo per 3 E aggiungere 2 Ce l'ho fatta Ciao Brava la fatica Quasi senza prender piatto Sì 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 Che parlantina Molto bene Sì Brava scuola Sì 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 Sì